L'Assemblea dei Soci è della mutua della Banca di Credito Cooperativo che si chiama Abruzzese Salute. È una mutua che è stata creata quattro anni fa proprio per assistere le famiglie dei soci e dei clienti della Banca di Credito Cooperativo. Siamo molto contenti perché in quattro anni la mutua ha potuto fare diverse campagne di prevenzione e assistere le famiglie con dei rimborsi su spese sanitarie, in tutto erogando 57.000 euro di benefici alle 800 famiglie che sempre più numerose si avvicinano al nostro mondo. È un risultato quello di oggi molto lusinghiero perché la mutua a suoi quattro anni dalla sua nascita chiude con un risultato economico di 9.000 euro di utili e questo dipende da una gestione molto oculata e molto attenta che abbiamo cercato di avere in questi anni. Oggi ci accingiamo a lanciarne alcune molto importanti, in particolare con il dottor Piselli faremo delle campagne di prevenzione contro l'obesità infantile nelle scuole e con il professor Rasetti avvieremo una campagna di prevenzione in materia cardiologica. Speriamo che sia un esempio di trasferire la potenza, l'impatto economico dell'uso di credito anche nel proteggere, letteralmente proteggere la salute della popolazione. Sarà la popolazione che afferisce all'uso di credito, però già è una cosa. Insomma, io non saprei dirle qual è la percentuale di spesa per la prevenzione rispetto alla scuola sanitaria. sa perché glielo posso dire? Perché non esiste la spesa per la prevenzione, è zero.